ciao a tutti e benvenuti su gallioplay in questo video vi spiegherò come ottenere il trofeo in sella in minecraft allora prima di tutto avviamo un nuovo tutorial da zero e il trofeo in sella chiede di addomesticare un cavallo quindi noi andremo dritti nella stalla che si trova nel nel tutorial e addomesticheremo l'unico cavallo che troviamo lì quindi raggiungiamo subito la stalla facciamo il pieno di fieno perché per addomesticare un cavallo bisogna salire e scendere in groppa il cavallo senza niente quindi senza la sella finché il cavallo non deciderà che è ora di poterlo cavalcare senza problemi e quindi rimetterà anche la sella questo avverrà quando appariranno i cuoricini però utilizzando il fieno velocizzeremo un po questa procedura che il cavallo sarà più contento di noi ecco quindi riempiamoci di fieno entriamo nella stalla e diamo da mangiare praticamente tutto il fieno ma non obbligatoriamente tutto e dopo proviamo a salire sul cavallo se non ci dà il trofeo non appaiono i cuoricini scendiamo e risaliamo e diamo altro fieno se ce l'abbiamo comunque qua ne troviamo tanto quindi non è un problema una volta che saranno apparsi i cuoricini che nel mio caso non sono apparsi perché il cavallo aveva la testa dentro il muro come potete vedere quindi non si vedrà comunque il trofeo l'ho ottenuto e niente una volta domesticato il cavallo è vostro quindi io per questo trofeo vi saluto come al solito mettete un mi piace commentate iscrivetevi fate quello che vi pare vi saluto e ci vediamo al prossimo video trofeo di minecraft povero cavallo ciao